Edilizia residenziale pubblica, un tema spesso controverso. Si discute molto se il modello italiano sia sostenibile economicamente oppure no e al tempo stesso se rispetti i criteri di equità. Il problema è generale, cioè nazionale, riguarda i sistemi di gestione del mercato che si confondono con i treventi di welfare. In molti sono concordi che il sistema vada rivisto. In attesa di adeguarlo alle nuove necessità, enti e amministrazioni pubbliche procedono secondo le linee guida in vigore. Il Comune di Arezzo segnala che resterà in pubblicazione fino a martedì 28 marzo la graduatoria provvisoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono possibili richieste di riesame entro quella data per ottenere una diversa valutazione della propria istanza, presentando nuovi documenti, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando, 19 settembre 2022, e dichiarate nella domanda. Queste eventuali istanze dovranno essere consegnate a mano e protocollate allo sportello unico o inviate via PEC o spedite per posta alla Commissione Comunale per la Edilizia Residenziale Pubblica in piazza Mentore Fanfani, al numero 1. Il Comune non risponderà per le richieste non pervenute o pervenute fuori termine a causa di disguidi di qualsiasi genere.